Ma in Lombardia c'è anche un'altra arteria in costruzione, la tangenziale est-esterna, 34 km da Gratebrianza a Meleniano, che stanotte ha visto il completamento di uno degli step principali, il tunnel di collegamento con la Brebemi. Ore 4.30, il cantiere completa il collegamento tra tangenziale est-esterna e Brebemi. Un traguardo raggiunto grazie alla precisione di personale altamente specializzato. 100 tecnici vi hanno lavorato servendosi anche di una gru alta 76 metri, con un braccio di 72 che ha sollevato la rampa, costituita da uno scheletro metallico pesante 36 tonnellate, e lo ha incastrato fra le campate di scavalco della linea ferroviaria Milano-Venezia. Per la TEM dunque tempi rispettati da cronoprogramma. Da giugno 2012 a settembre 2013 l'arco TEM è stato costruito per oltre il 40% del suo sviluppo complessivo. Abbiamo effettuato l'intervento con modalità che non hanno recato alcun disagio né ai pendolari della linea ferroviaria né alla popolazione residente, ha dichiarato l'amministratore delegato di tangenziale esterna SP a Stefano Maullu. Ritengo che quest'ultimo varo rappresenti plasticamente la conferma della volontà di tangenziale esterna e del consorzio costruttori TEM di consegnare l'intera infrastruttura entro il 2015 di Expo.